Beh, mi rendo perfettamente conto che la risposta di qualcuno nei commenti potrebbe essere e chi se ne frega perché a te non piace il jazz, ma in realtà, e forse avrebbe anche ragione, ma in realtà io parto da questa questione che è venuta fuori più volte nei commenti, anche in un paio di video che ho fatto, e peraltro chi ha scritto con stupore determinati commenti non ha letto quello che c'è nella descrizione del mio canale YouTube, dove io esplicitamente dico di non parlare di jazz per la ragione che non lo conosco, sono ignorante e quindi non tendo così per mia etica personale, oltre che musicale, a non parlare di cose che non conosco. Qualcun altro ha scritto, commento carino, tra il serio il faceto, allora apprezzi Fedez, non apprezzi Miles Davis e così, e poi insomma ripeto, era tra il serio il faceto, poi in realtà forse mi sono anche un po' rigidito, su quel commento lì e chiedo scusa, ma probabilmente perché c'è un nervo scoperto, e allora ho detto oggi facciamo coming out, oggi ne parliamo come dallo psicologo, e non devo neanche lasciarli giù la parcella a fine, poi si dice seduta a fine, terapia, qual che è. Allora, prima di tutto vorrei specificare una cosa che è molto importante, io sono cresciuto con la musica in casa, ok? Nell'orecchio destro avevo mia mamma che ascoltava esclusivamente lirica e sinfonica, e nell'orecchio sinistro avevo mio padre che ascoltava quasi esclusivamente jazz. Che tipo di jazz? Beh, insomma, il jazz della prima fase, Duke Ellington, Caumbesie, Artatum, Fetz Waller, e poi più avanti Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, e ancora più avanti Jerry Mulligan, Stan Getz, ogni tanto sconfinava in qualcosa tipo Glenn Miller, o Benny Goodman, o Django Reiner, insomma che sono un po' paralleli per certi versi. Per cui io sono cresciuto con questi due bombardamenti sonori, che poi, insomma, per tante ragioni mie e di percorso di vita, ma soprattutto di mero gusto personale, ho deciso che mi piacere più quello che ascoltavo nell'orecchio destro rispetto a quello che ascoltavo nell'orecchio sinistro. Però dobbiamo fare una serie di precisazioni che sono molto importanti. Dire che non si apprezza qualcosa non vuol dire disconoscere a questa cosa un valore, non vuol dire negarne il valore. Attenzione, è questo un passaggio molto importante. Per cui nessuno sta dicendo che per me Fedez valga più di Miles Davis, che non sarebbe neanche un abissime, sarebbe come battuta, sarebbe molto divertente, ma vuol dire che è una cosa che non sta n'inciano in terra. Ma il punto non è il valore, ma quello che la musica rappresenta, e cerco di specificarlo meglio. Il punto è che molti professionisti della musica, e io per fortuna non sono tra quelli, non riescono a distaccarsi dalle proprie competenze, in molti casi anche dalle proprie abitudini. C'è come dire di talebani, ci sono nella lirica, nella classica, e anche nel jazz, evidentemente. Il problema è che molte volte si rischia di diventare schiavi delle proprie cognizioni, delle proprie conoscenze musicali. Schiavi a un tal punto che poi non ti permette di ascoltare nient'altro che non sia musica di un certo tipo, di una certa qualità, di una certa... in certi casi di un certo stile, insomma. Ecco, e questa cosa, ripeto, secondo me è un limite. Cioè a dire, se io ascolto una canzone alla radio di musica pop, fatta sul giro più scontato che si possa fare una canzone pop, cioè primo, quinto, sesto, quarto, certo che io l'ascolto e dico oh mamma mia, l'ennesima canzone su questo giro, anche basta, però poi non mi fermo a quella roba lì, l'ascolto e magari trovo in quella canzone è un qualcosa che mi suggerisce, che mi ricorda, magari che mi smuove qualche... appunto qualcosa del mio passato o che mi fa intravedere in quel momento un ottimismo. Cioè in questo senso c'è tutto uno studio sulla musica e la capacità che ha di influenzare i nostri stati d'animo. Gasman, padre, diceva la musica ti ricatta coi sentimenti e insomma l'idea era abbastanza vero. Però un po' come nel cinema non c'è solo la corazzata potionkin, si può andare a vedere anche una commedia così leggera, anche un po' sciocca, perché no? E non si tratta di dire il cine panettone è uguale a Stanley Kubrick, perché è evidente che non lo è, ma forse mi auguro nessuno neanche lo pensa, voglio sperare. Però ci sono certi momenti in cui magari hai bisogno di un due ore di svago, vedere una cosa che non ti impegni tanto e vedere un film, boh, anche divertente. Perché no? Io credo che la stessa cosa si possa fare in musica. Cioè cosa c'è di male nell'ascoltare più generi musicali? Non vuol dire... cioè non è una materia di fede, non è che puoi credere... se credi in quel dio allora non puoi credere nell'altro. è una cosa che afferisce il nostro gusto personale e soprattutto quello che la musica ci trasmette in quel momento. Cioè a dire, quanti ricordi anche dei nostri primi flirt, dei nostri primi memoramenti o delle prime volte che ci imboscavamo in macchina sono legati a determinate canzoni? Io non so quante ragazze avrei conquistato se una volta appartati in macchina avessi messo sulla seconda di Mahler. E mettevo una canzone di Rem perché i tempi andavano forti i Rem ed ero in quel momento ero più adatti i Rem della seconda di Mahler ma non vuol dire cioè questa cosa vogliamo dire che il valore della seconda di Mahler è uguale al valore di una canzone di Rem. È ovvio che no ma non c'è dovremmo non se ne dovrebbe neanche discutere. È un discorso di momento. Se sono... io uso... ascolto tanta musica per esempio anche quando faccio sport. Se sono in palestra a spaccarmi i tricipiti non è che metto su la terrazza di Beethoven. Io qualcuno di voi forse lo sa corro la maratona e durante la maratona ore e ore mi corsa e non è che posso mettere su i quartetti di Schubert metto su The Rock pesante che mi sostenga che mi dia il ritmo e che mi dia diciamo così la carica. Ma non è che siccome apprezzi i quartetti di Schubert non posso ascoltare gli Aelstrom. Adesso andatevi a cercare chi sono gli Aelstrom. Per cui essere unnivori non è una questione di valore. È chiaro che Miles Davis è qua e Fedez è qui che neanche lo vedete dove è la mia mano sinistra. È evidente. Però ce non toglie che in certi momenti possa suggerirti di più un qualcosa di una canzone di Fedez dico Fedez perché è il protagonista dell'altro giorno insomma mettete sostituite a Fedez il nome che volete più di Miles Davis in certi momenti. È un discorso di momento. È chiaro che se vado a sentire un concerto sinfonico alla scala non posso vedere nel concerto stasera musiche di Beethoven Mozart Brahms Fedez. No evidentemente no. È un discorso di ambito e di momento. Se vado a ascoltare un concerto di musica sinfonica voglio essere lì seduto a teatro con le condizioni giuste e anche per questo ho fatto il video sulla ritualità e il galateo a teatro e voglio godermi quella musica perché in quel modo è stata concepita e in quel modo deve essere usufruita. Per cui tornando al jazz amici jazzisti o amici chiamati al jazz non come dire non mostrate su questa cosa un nervo scoperto io lo dico subito non sarei assolutamente capace di fare jazz proprio non ne sono nel senso non ne sono in grado ok non so come dirlo in maniera più chiara e più esplicita di così è un discorso di uno stile che non mi colpisce non mi attrae non mi emoziona io se sento uno che sa improvvisare ripeto io non so farlo lo ammiro dico caspita che bravo in gamba ma dopo il quarto giro di quattro battute anche basta cioè è un mio limite va bene è un mio limite le lunghe improvvisazioni alla lunga vi ricordate come diceva Elio in quella canzone la musica balcanica è bella e tutto quanto ma alla lunga rompe non posso dire cosa se no poi mi dicono anche che uso un linguaggio non appropriato io sono per esempio io cucino per passione per hobby sono un cuoco dilettante ma molto appassionato e molto impegnato mi ci metto di impegno e studio cucino tutto carne pesce verdure primi risotti tutto i dolci non sono fortissimi a me i funghi non piacciono ok il fatto che i funghi non mi piacciono non vuol dire che io neghi quello che tutto il mondo sa cioè che i funghi sono un alimento anche abbastanza prelibato anche ricercato che tanti buongustai quasi tutti forse tranne il suo scritto apprezzano a me i funghi non piacciono potete mettermela come volete potete dire ma li provate i fritti non li provate i impanati ma li provate nel risotto non mi piacciono li ho mangiati 20 volte in vita mia non ho bisogno di mangiarli 500 volte con questo non nego che sia un buon alimento dico che a me non piace non mi piace l'odore non mi piace il gusto non mi piace la consistenza in bocca ma li potete mettere anche in una sucker mi faranno sempre schifo quindi è lo stesso è lo stesso discorso non prendete la discorso del jazz come una mia posizione di qualunque tipo se non una posizione di gusto personale stop non c'è un giudizio di valore non c'è niente dico questo genere di musica adesso voi mi direte ma tu non hai ascoltato sì certo non l'ho ascoltato come di nessun genere di musica posso aver ascoltato tutto però non ho ascoltato 626 composizioni di Mozart non ho ascoltato 200 so che quel genere mi piace non ho ascoltato tutte le canzoni dei Pink Floyd ne ho ascoltato al 60% so che un genere pur con diversità i primi album e gli ultimi per l'amor di Dio se non mi schiedete anche in commenta anche se mi fate le pulci so che è un genere che mi può piacere idem per certe canzoni idem per certi gruppi idem per certi generi e il jazz non mi comunica non mi trasmette un'emozione che poi secondo me è la cosa più importante che deve fare la musica è un limite mio però insomma non credo di poter essere criticabile per un gusto per una preferenza personale e per chiudere e per specificare che non è un discorso perché io lo so che tanti jazzisti hanno questo nervo scoperto nei confronti musicisti classici e pensano che i musicisti classici guardino il jazz da alto al basso lo si faceva sicuramente lo si è fatto l'ho parlato in tanti video per tanti anni credo che oggi la situazione sia assolutamente diversa il jazz ha assolutamente paridignità anche nella percezione dei musicisti classici sicuramente non è il mio caso ecco non ho mai avuto come dire sciocchi e assolutamente infondati motivi di superiorità non si sa perché e quindi tantomeno ce l'ho oggi insomma però ripeto siccome so che c'è questo nervo scoperto vi dico una cosa per dimostrarvi che questa cosa qui che vi dico è vera io non impazzisco per Wagner cioè qualcuno sano di mente potrebbe negare la genialità musicale di Wagner nessuno cioè qualcuno lo fa lo ricovera in un osocomio però a me la musica di Wagner non mi trasmette non mi colpisce non mi emoziona come mi emozionano musiche di altri compositori tanto per stare specifici di musica lirica la dodecafonia ho fatto video su dodecafonia ma la dodecafonia non piace e cosa vi devo dire ma come non apprezzi la musica 900 la rispetto la apprezzo ne apprezzo il valore ne apprezzo l'esecuzione cioè tornando a jazz musicisti strepitosi strepitosi però se quello che fanno poi non mi comunica qualcosa io purtroppo non ci posso fare niente scrivete nei commenti che cosa ne pensate cercate di essere moderati nei commenti ma non sotto questo video sempre sotto tutti i video per favore evitiamo e soprattutto c'è scritto nelle nelle regole del mio canale non gradisco che si litighi tra di voi sul mio canale se volete litigare andate per favore a farlo altrove se il video vi è interessato lasciate un like se volete iscrivetevi al canale se volete potete anche abbonarvi e noi ci vediamo al prossimo video non mancate grazie a tutti grazie a tutti